Era stata giudicata invalida al 100% e percepiva indennità di accompagnamento poiché incapace di compiere atti quotidiani della vita. Al contrario, li svolgeva in modo disinvolto e completamente autonoma. Inchio data una donna di 47 anni, residente a Rossano, provincia di Cosenza, insegnante e imprenditrice, pizzicata dalla Guardia di Finanza e ora indagata per truffa aggravata all'Inps, sequestrati 181 mila euro. Grazie ad appostamenti e pidinamenti, riprese video e foto, le fiamme gialle constatavano che la falsa invalida, con cadenza quotidiana, viaggiava alla guida della propria autovettura, risultando priva di qualsiasi dispositivo di assistenza, recandosi a Cosenza, dove era titolare di un'agenzia di finanziamento e prestiti a privati. Infine, grazie a una verifica incrociata, analizzando i conti correnti della donna, si notava che oltre all'erogazione dell'Inps, la donna percepiva lo stipendio come insegnante in una scuola in provincia di Bari, impiego pubblico di fatto mai svolto grazie alle prescrizioni mediche ottenute con la condotta fraudolenta.